Maxi controlli da parte della Guardia di Finanza in tutta la Regione Lazio per le irregolarità dei scarichi delle acque nei fiumi e nei corsi d'acqua. Le fiamme gialle insieme alla Regione Lazio e all'ARPA, l'Agenzia Regionale della Protezione Ambientale, tramite un protocollo di intesa ha messo al setaccio la gestione delle acque reflue per la tutela e la salvaguardia delle risorse idriche nel Lazio. E così si è costituita una tax force fra esperti nel settore che garantiscono controlli capillari su tutto il territorio regionale. I Beretti Verdi hanno iniziato a controllare gli impianti di depurazione e di scarico di tutta la costa viterbese, tramontalto di Castro, Tarquinia, fino ad arrivare a Civitavecchia. L'operazione è scattata da parte del procuratore di Civitavecchia, Gianfranco Amendola, che ha messo in campo mezzi e uomini della Guardia di Finanza, i quali hanno riscontrato un evidente stato di impropria gestione tecnico-amministrativa, correati in materie ambientali come scarichi non autorizzati, senza alcun sistema di trattamento depurativo, provenienti da abitazioni, impianti turistici e aziendali. L'impegno da parte di tutti quanti, non solo delle forze di polizia della Regione Lazio di Arpalazio è costante e vede anche le società interessate a migliorare la qualità delle risorse idriche e di conseguenza rendere più balneabile il mare del Lazio e le coste turistiche del Lazio. Fino ad oggi sono stati verificati 400 scarichi in 95 comuni distribuiti in tutto il territorio regionale ed evidenziando un 80% non conformi alle normative. I controlli da parte della Guardia di Finanza sono ancora in corso per tutelare e salvaguardare l'ambiente.